Un colpo a racket lo ha assestato lo Sporting Paradise, storico circolo del tennis vomerese che ha dato vita alla prima edizione di un evento che ha visto sui propri campi in Terra Rossa le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. All'appuntamento napoletano sono intervenuti Tano Grasso, primo presidente di un'associazione anti-racket in Italia, e Adriano Panatta, che ha voluto testimoniare con la propria presenza l'importanza sociale di una giornata dedicata al tennis e alla lotta alla malavita. Ho accettato di venire a questa manifestazione, che poi si svolge in un circolo di tennis, per cui è adatta alla mia storia. Mi ha chiamato Tano Grasso, spiegandomi il progetto che stavano mettendo a punto proprio qui a Napoli. E mi sembra un'ottima cosa, una bella iniziativa in cui mettono insieme lo sport e l'impresa, perché insomma so che qui faranno, metteranno a punto un bel progetto di riqualificazione sia dalla parte sportiva ma anche dalla parte non sportiva, e credo che sia un buon esempio anche per tante altre persone che in Italia potrebbero farlo. Al Paradise è stato inoltre celebrato il gemellaggio tra i ragazzi di Scampia e quelli del Vomero. Sui campi da tennis si sono quindi alternati gli allievi della Star Club di Giudo di Giovanni Maddaloni e del loro olimpico Pino Maddaloni, il settore giovanine del club tennistico omerese e gli alunni degli istituti scolastici di Scampia, Carlo Levi, il Virgilio IV e l'Eugenio Montale.